Terra Amara Anticipazioni che riprendono le puntate, che andranno in onda dal 23 al 27 dicembre. Zuleya viene chiamata dall'Istituto di Medicina Legale per identificare un corpo. Arkan arriva a Shokurova e rimane affascinato dalla bellezza della protagonista. Con l'aiuto di Jumali, Umit rapisce Adnam, ma Zuleya uccide la dottoressa e scopre che non era incinta. Betul inizia ad assumere il controllo delle decisioni aziendali e a raccogliere informazioni riguardanti tutti i beni e le proprietà appartenenti a Zuleya e Demir. Il suo obiettivo è appropriarsi di tutto ciò che possiedono. Nel frattempo fuori dall'ospedale, Saniyer sorprende Jumali in modo inaspettato mentre si trova felicemente a mangiare in un ristorante ad Adana. La donna non esita ad affrontarlo direttamente alzando la voce e rompendo un piatto del locale. Saniyer gli rivolge domande riguardanti il suo ruolo di padre poiché non puoi credere al suo comportamento. In questura, Ficheli viene liberato su cauzione. Poco dopo l'uomo preoccupato per Zuleya organizza insieme a Ficharet un piano di ricerca per trovare Demir. Nel giardino della villa Zuleya confessa a Gulten che sta attraversando un periodo estremamente difficile. La mancanza di Demir inizia a farsi sentire e la preoccupazione aumenta ogni giorno. La protagonista comincia a perdere la speranza, convinta che se Demir fosse ancora vivo, farebbe di tutto per tornare da lei. Proprio nel momento più inopportuno Umit arriva nella villa furiosa, chiedendo a Zuleya di aver diritto anche lei di sapere il luogo in cui Demir si nasconde. La dottoressa è convinta che lui e Zuleya abbiano pianificato tutto per fuggire. Inoltre, Umit grida davanti a tutti che è stato Demir ad uccidere sua madre, causando un esaurimento nervoso a Zuleya. Quest'ultima è sul punto di attaccarla, ma gli uomini della villa riescono a portare via Umit. Poco dopo, Zuleya riceve una chiamata dall'Istituto di Medicina Legale che le informa di aver trovato un corpo. Hanno bisogno della sua presenza per identificarlo arrivata all'obitorio. La giovane viene accolta da Fekeli, che le offre tutto il suo sostegno. Per fortuna dopo alcuni angoscianti minuti, esce dalla stanza sollevata confermando che il corpo non è quello di Demir. Quando Fekeli ritorna alla fabbrica, inizia a esprimere la sua preoccupazione per la sicurezza di Kerem, ora che è stato rilasciato. Teme che Arkhan sappia già che è stato lui a causare la morte del suo fratello. Ali condivide queste preoccupazioni con Fikret, sostenendo che se Arkhan è stato capace di attaccare una casa con donne e bambini, non si deve sottovalutare il pericolo che rappresenti. Fikret è d'accordo con lui propone di portare Kerem alla villa, convinto che insieme sarà più facile proteggersi da eventuali minacce. Nel frattempo, nella villa, Zuleya, senza sapere i piani di Fekeli e Fikret, ha la stessa idea e suggerisce a Lutfiè che Kerem si trasferisca da lei per poter stare con i suoi fratelli. Betul si offre volontaria per andare a prendere il bambino. Poco dopo arriva a casa di Fekeli. Natsire riceve l'avvocato e spiega che ha già preparato la valigia di Kerem, tuttavia a causa di un'emergenza medica nella sua famiglia, dovrà partire. Lascia quindi Betul con il compito di prendere il bambino dalla stanza e portarlo alla villa. Quando Betul si sta dirigendo verso la stanza di Kerem, all'improvviso sente una forte esplosione provenire dalla cucina. Spaventata, prende il bambino e cerca disperatamente di scendere le scale per uscire il più velocemente possibile. Ma si rende conto con orrore che le fiamme bloccano la via d'uscita principale. Fortunatamente, Betul riesce a trovare un'altra via di fuga e insieme a Kerem riesce a raggiungere l'ingresso del ranch. Proprio in quel momento, Fikret arriva e senza esitazione li porta via dalla casa, che è ormai completamente avvolta dalle fiamme. Quando arrivano alla villa, il bambino è molto agitato e Fikret racconta a loro l'accaduto fechele e esprimi la sua profonda gratitudine alla figlia di Kerem per il suo atto di coraggio nei confronti del piccolo. Nel frattempo, in ospedale Garfour e Sanier rimangono al fianco della loro figlia, nell'incertezza riguardo al destino della bambina. Tuttavia, un improvviso segno di speranza si manifesta quando la piccola inizia a risvegliarsi. I medici, con un senso di sollievo, confermano che un zoom sta mostrando segni di ripresa e assicurano a loro che si riprenderà. Qui avverrà un salto temporale di una settimana, durante il quale vedremo Arkhan arrivare a Shokurova per incontrarsi con Abdul Qadir nella sua officina automobilistica. Durante il loro incontro, Abdul Qadir mostra a Arkhan delle fotografie di Fekeli, Fikret e Zuleya. Nel corso della discussione, si spiega che al momento non si hanno notizie su Demir il quale sembra che sia completamente scomparso. Tuttavia Arkhan è fermamente convinto che prima o poi Demir tornerà per riprendersi la sua famiglia, pertanto decide di osservare attentamente ogni mossa della moglie dello Yamam. Convinto che quest'ultimo si metterà in contatto con lei, mentre tiene la fotografia di Zuleya tra le mani, Arkhan è colpito dalla sua bellezza. Fekeli e Fekelet si recano presso la questura per incontrare il pubblico ministero e discutere dell'incendio avvenuto nella loro casa la settimana prima. Fekeli spiega che sospetta che Arkhan, il fratello dell'uomo investito da lui, sia responsabile della fuga di gas che ha quasi ucciso Kerem. Il procuratore informa loro che, dopo aver condotto un'indagine approfondita, al momento non ci sono prove a sostegno dell'ipotesi di sabotaggio. Sembrerebbe infatti che la fuga di gas sia stata causata da un problema nella cucina. Fekelet si infuria molto per la conclusione del procuratore e, agitatamente, cerca di convincerlo che stanno dicendo la verità. Fekeli riesce a calmare la situazione ed evitare che suo nipote venga accusato ingiustamente. Successivamente, confessa a Fekelet che dovranno condurre un'indagine autonoma poiché non possono contare sulla polizia. Nella villa, Garfur e Sanier ritornano a casa con la piccola Unzum, che si è quasi completamente ripresa dalle ferite dell'attacco. Zuleya arriva per augurare una pronta guarigione alla figlia di Sanier e tutti sono felici per la piccola. Durante la notte, mentre Arkhan sta sorvegliando la villa, Gulten e Zuleya scoprono che Adnan è scomparso. Tutti si mettono alla ricerca del bambino. Nel frattempo, vediamo Jomali accompagnare il ragazzino fuori dalla villa e consegnarlo a Umit in cambio di soldi. La dottoressa chiede ad Adnan mentre entra nella macchina, se sente la mancanza di suo padre perché stanno per andare a trovarlo. Quest'ultima è determinata a costringere Zuleya a rivelarle la verità su dove si trova Demir. È convinta che Demir e Zuleya stiano aspettando il momento opportuno per scappare con il figli. Infatti non crede che Demir sia realmente scomparso. Poco dopo, Umit chiama alla villa e comunica a Zuleya che Adnan è con lei. Successivamente, le dice che per riavere suo figlio dovrà recarsi da sola in un luogo stabilito da lei. Zuleya è arrabbiata e attacca il telefono. Ma prima di partire sale nell'ufficio e prende una pistola. Si dirige al luogo dell'incontro concordato, mentre Arkan, che si trova fuori dalla villa, la segue. Una volta arrivati sul posto, Umit spiega a Zuleya che potrà portare via Adnan solo se rivelerà dove si trova Demir. Zuleya insiste con il medico, dicendo la verità ma Umit non le crede e si rifiuta di restituirle il bambino. Stanca delle minacce di Umit, Zuleya afferra la pistola e la punta contro la dottoressa, determinata a fare qualsiasi cosa pur di riavere Adnan. La tensione è palpabile mentre le due donne si scontrano e durante la connuttazione, Umit viene colpita al petto e cade a terra. Dopo aver verificato le condizioni di Umit, Zuleya scopre con orrore che la sua presunta gravidanza era solo una bugia. Decisa a ritrovare Adnan, si mette in cerca del bambino e lo trova a pochi metri di distanza, all'interno dell'auto di Umit. Tutta questa situazione avviene sotto l'occhio vigile di Arkan. Nella villa, Fekeli e Fikret stanno discutendo se chiedere l'aiuto della polizia per trovare Adnan, quando Zuleya fa ritorno con il bambino, suscitando un sospiro di sollievo da parte di tutti. La protagonista è molto agitata per l'accaduto che ha coinvolto Umit e chiede a Fekeli di accompagnarla nel salotto. Lì, Zuleya racconta loro ciò che è accaduto, ho ucciso Umit. Zuleya spiega che ha sparato accidentalmente, ma ora si sente un'assassina anche se in realtà voleva solo intimorirla. Inoltre, rivela che Umit non era effettivamente incinta e aveva usato un cuscino nascosto sotto la camicetta per simulare la gravidanza. Zuleya è presa dal panico all'idea di finire in prigione e si preoccupa di cosa potrebbe accadere ai suoi figli senza la presenza di Demir. Fikret, sentendosi in colpa per le azioni di Umit, propone di prendere lui la colpa del delitto, ma Fekeli non lo permette e spiega che devono trovare un'altra soluzione. La priorità è localizzare il corpo di Umit e l'arma. Tuttavia, dietro la porta, Betul ha ascoltato tutto e decide di inseguirli. Zuleya accompagna Fekeli e Fikret sul luogo del crimine, ma una volta arrivati Umit non è presente e non trovano neanche la pistola. Decidono quindi di seguire una traccia di sangue che li conduce fino all'auto del medico. Fekeli comprende così che Zuleya non ha ucciso Umit, ma è stata solo ferita ed è riuscita a raggiungere la sua macchina e fuggire. Tuttavia, ciò che è realmente accaduto a Umit è che Arkhan si è incaricato di portar via il suo corpo. Nella piccola villa, Betul, che ha assistito a tutto, informa sua madre degli ultimi avvenimenti. Zuleya ha sparato a Umit e adesso diventa cruciale trovarla e convincerla a testimoniare contro la moglie del suo cugino, al fine di liberarsi anche di lei. La mattina seguente, Fekeli solleva il punto che sarebbe stato impossibile per Umit rapire Adnan davanti a così tante persone senza essere notata. È evidente che la dottoressa abbia avuto un complice coinvolto nei suoi piani. Zuleya e Fikret sono d'accordo con lui e sono convinti che tra di loro ci sia un traditore, poiché è chiaro che Umit non avrebbe potuto compiere l'azione da sola. Ora l'obiettivo principale è individuare il rapitore, mentre in cucina Lutfi si occupa delle indagini. Il piccolo Adnan fornisce il primo indizio alla signora, rivelando che è stato un uomo a portarlo a fare una passeggiata, ma non menziona il nome dell'individuo. L'indagine comincia nella villa e Zuleya chiede a Sanier di radunare tutti gli uomini. Nessuno di loro è a conoscenza del fatto che Adnan dovrà identificare il complice di Umit. Quando gli uomini sono tutti davanti alla villa, Adnan rivela che il padre di Unzum lo ha portato a fare una passeggiata. Jumali fugge dalla villa terrorizzato dopo essere stato scoperto, mentre Sanier consola sua figlia per ciò che suo padre biologico è stato capace di fare. Nel frattempo, Abdul Qadir rimane senza parole quando Arkan rivela tutto quello che è successo con Umit la notte precedente. Adesso però hanno in loro possesso la pistola con cui Zuleya ha sparato al dottore, e su di essa ci sono le impronte digitali della signora Yaman. Per quanto riguarda Umit, Arkan spiega che i suoi uomini si sono incaricati di nascondere il corpo nel bagagliaio della sua macchina e successivamente dissimulare un incidente stradale mortale.